Ciao a tutte e a tutti, in questo tutorial, cortissimo tutorial, vi voglio far vedere una mia idea che mi è venuta mentre creavo delle colane e dei braccialetti, dei bracciali mi è venuta un'idea così semplice che ho detto no, questa subito ve la devo mostrare perché incredibilmente semplice, la mia spirale all'uncinetto, perché la mia? Perché insomma mentre facevo come vi dicevo le mie prove mi è venuta, mi è spuntata fuori questa ed è stato un amore a prima vista perché oltre ad essere semplicissima, guardate che meraviglia, guardate, è stupenda adesso cosa avete bisogno per questa grande, comunque per tutte, anche questa è più piccolina come vedete cosa avete bisogno? Avete bisogno un pacchetto di questo tipo di perline che sono perline da 4 mm, sono 50 grammi e ben 250 sui 250 perline, adesso io non so di sicuro però comunque qua per questa grande a me sono volute 250 grammi potete utilizzare anche le miuchi, sempre nella boutique, le trovate se volete lavorarle in un solo colore però in questo caso vi vogliono 3, 4, 5, 5 buste da 50 perline, per questa grande, per questa invece più piccola vi serve meno, non mi ricordo di sicuro quante ne ho messe, però comunque vi servono metà perline per cui una busta di queste perline è una chiusura, ma io qua ho utilizzato quella da 5 mm, mi sembra più adatta invece qua ho utilizzato quella da 3, quindi da 3 o da 5 vedete voi e poi vi serve il cordino Rowan, sempre nella boutique, quindi tutto trovate nella boutique e ovvio l'uncinetto tulip da 3 mm questo essendo dette, mettiamoci subito all'opera, vi faccio vedere quanto è semplice realizzare questa meraviglia e vediamo come si lavora questo tipo di bellissima e semplicissima spirale veramente mi è venuta mentre facevo delle prove di colane le ho infilate e poi mi sono messa a fare questa cosa, mi è venuta, ho detto non posso credere quindi prima di tutto, come vi dicevo, infiliamo le perline adesso io ho qua dobbiamo praticamente aprire un po' il cuore di questo cordino perché il cuore è fatto di tanti fili di cotone ed è molto più morbido molto più facile da riuscire a infilare tutte le perline e guardate, io infilo delle perline adesso ho qua tutte le mie perline da infilare e l'unica cosa che dovete sapere qua è semplice è che abbiamo bisogno di multiplo da 5 quindi devono essere 5 5, 5, 5, 5, 5 2, 3, 4, 5 ok? quindi per ogni parte, diciamo, componente della nostra spirale le mettiamo 5 e quelle due le ho fatte colorate questa la voglio fare cioè sempre colorata però con i colori che vengano così man mano cioè finisco con uno, poi con l'altro e così via adesso voglio vedere quanti colori ne metto quanto viene lunga e 5 e andiamo avanti così io ne ho ancora un bel po' quasi perline come vedete quindi adesso vediamo quanti quanti riesco a metterne e poi vi faccio vedere la lavorazione è stupidamente semplice quindi 5 è questo che dovete dovete solo capire dovete solo sapere 5 ho tutte le mie perline adesso come avete visto o ne fate due, tre magari potete fare con una bustina di perline o ne fate una intera io sono curiosa curiosissima anzi come viene quindi come facciamo l'odino iniziale due, tre catenelle per poter aggiungere il nostro la nostra chiusura che adesso iniziamo difficilissimo iniziamo con come vi dicevo avevamo bisogno sempre di 5 5 prendo un po' di più 4, 5 ecco così da avere qui con me perché come dicevo è così difficile che la facciamo quindi prendiamo tre e facciamo una catenella molto ben stretta però prendiamo due e le chiudiamo con una catenella stretta e di nuovo tre chiudiamo con una catenella due chiudiamo con una catenella stringiamo bene la catenella quindi tre 3 chiudiamo con una catenella stringete la catenella bene 2 chiudiamo con una catenella 3 chiudiamo con una catenella 2 chiudiamo con una catenella ed è tutto qua 3 chiudiamo con una catenella 2 e 3, e 2, e 3, e 2, fino ad aver incluso nella nostra catenella, che praticamente è una catenella, tutte le nostre perline. Adesso, come avete visto, possiamo mettere solo un colore, due colori, un colore no, due colori, possiamo fare come ci pare, l'idea è che, guardate, l'idea è che sta venendo così bene, mi è piaciuto talmente tanto che ho detto, no, io vi devo far vedere, perché sì, è una cosa stupidamente semplice, ma è altrettanto bella, per cui, eccoci qua, 3, e 2, sono passata ad un altro colore, adesso sono così curiosa come viene, ecco, di nuovo, 3, quindi 3 insieme, 2 insieme, unite con una catenella, e 2, e di nuovo, 3, e 2, 3, io lavoro, non so se vi ho detto, con un uncinetto da 3 mm, lavorate con un uncinetto più stretto che riuscite, no, ecco, è molto importante che sia un lavoro molto stretto, eccola qua, la mia super carina spirale all'uncinetto, e vado avanti con tutti i miei colori, poi vi faccio vedere e vi dico anche quanto è lunga con tutte le perline, allora, io l'ho finita, mi piace così lunga, per cui non farò altro che tagliare, dove sono, qua, faccio qualche, 1, 2, 3, ecco come ho fatto anche di là, 4, taglio un po' di codina, e metto, adesso vi spiego, le chiusure, qua, praticamente io la chiusura la faccio così, e poi sapete come faccio, io metto la chiusura, io metterei questa da 5, anche se è un po' più larghina, ma se metto un po' di codina intorno, risolvo lo spessore, perché con quella da 3 mm, mi sembra un po' troppo stretto, ecco, vedete, sì, perfetto, farò così, invece questa, questa è quella da 3, invece questa da 3, mi sembra, qua, ci sono riuscita, ma, vedete, ci sono riuscita, ma comunque, questo vado a tagliare, ci sono riuscita, ma comunque, oh, comunque, metterei quella da 5, come vi ho detto, ok, ecco la mia colana multicolore, che veramente sta molto bene, anche perché va benissimo con qualsiasi cosa, colana a spirale, la più semplice spirale all'uncinetto, io spero di avervi fatto una cosa gradita, con questa ideuzza, veloce veloce, ma, molto bella, dico io, e non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube, per non perdervi neanche uno dei miei tutorials, e appunto, al prossimo tutorial, ciao!